In disoccupazione ma con un patrimonio da un milione di euro. E' questa la storia paradossale scoperta dai carabinieri di Andrea che hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di sequestro preventivo finalizzata alla confisca nei confronti di Emanuele Melillo di 46 anni, già coinvolto in un procedimento penale per detenzione spazio di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti patrimoniali successivi al fermo per droga hanno evidenziato come Melillo avesse comunque nel tempo mantenuto un tenore di vita notevolmente superiore alle reali possibilità economico-finanziarie e alle capacità reddituali dichiarate. La famiglia Melillo infatti aveva un reddito basso e aveva ottenuto accesso agli assegni familiari per i nuclei numerosi concessi dal comune di Andrea. La famiglia Melillo aveva infatti, avendo un reddito basso, avuto accesso agli assegni familiari per i nuclei numerosi concessi dal comune di Andrea. Lo stesso Melillo aveva percepito l'indennità di disoccupazione agricola negli ultimi sette anni per un importo pari a 34.000 euro erogata dall'Inps. Il provvedimento eseguito dai carabinieri riguarda un appartamento, un posto auto, un'attività commerciale di articoli per uso domestico, due conti correnti bancari, quote societarie, cinque auto ed altre utilità riconducibili all'interno del nucleo familiare dei Melillo. L'intero patrimonio, come detto, pare un valore di un milione di euro. È stato affidato ad un custode giudiziario nominato dal Tribunale di Trani, non essendo prevista la facoltà d'uso o neanche i familiari. Per Melillo è stata disposta, inoltre, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi in applicazione al decreto emesso dalla sezione di misure di prevenzione del Tribunale di Trani. Grazie a tutti.